Episodio 7 parte 3, l'orizzonte degli eventi. Singularity mi sta sfidando. Lian si è infiltrato nel sistema di sicurezza della sezione rossa e Singularity ci ha restituito il favore. Ora può cedere liberamente a Zeus e ai file dell'agenzia, ma non importa. Io sono qui, sto andando da lui. Lui lo sa, ma non può fare nulla per fermarmi. Sono nel suo orizzonte degli eventi, sempre più vicino e il tempo non si ferma. Destino. Blake è qui. Se Singularity torce un capello a quella bimba, non rispondo delle mie azioni. Non ne risponderò comunque. Il progetto Dark Mirror deve essere fermato. La sezione rossa deve essere annientata. Singularity deve morire. Mugedi pensa che il nostro fato sia scritto nei geni. Io credo che sia nelle nostre mani. Quelle che reggono la pistola. Gabe Logan. Poeta. Beh, non mi sento tanto lontano dalla fine, comunque. Aiuto per aprire queste porte blindate. Questo sistema di ventilazione porta alla camera di sicurezza vicino alla tua posizione. Arrivo. Vedo delle valvole di gas. Cerca di fare presto. Ricevuto. Ah, minchia. Sono praticamente morto già. Ottimo. Dion, elimina quel tipo. Capito avuto. Logan è qui. Difese superate. Non sopravviverai al gas. Si aprono. Ok, sono aperte. Buona fortuna. È vicino alla camera di sicurezza. Andiamo. No, premio. Madonna mia. Cioè, sono sopravvissuto con uno sputo di vita. Allora, lì dovrei avere il medipack però. Ecco qua. Easy. Aspetta, perché... Ma, quel condotto cos'era? Forse qualche prova segreta? Aiutami, per favore! Sta zitto, barbino. Non costringermi a ucciderti. C'è. Credo di sì. E adesso non lo voglio vedere. E adesso non lo voglio vedere. No, non c'è nulla. Però che senso avevo? Boh, vabbè. Ah, sì. Vedo che ti sei infiltrato nella nostra sicurezza. Ma conosco anch'io questo gioco. Mi sono inserito nelle vostre comunicazioni. Ora mi senti, vero Logan? Sì, che ti sento. Aiutami, per favore! Sta zitto, barbino. Non costringermi a ucciderti. Queste non si possono schippare. Va bene, noi siamo qua. Eh, ma queste mi sa che sono fin troppo veloci. Dobbiamo... Eh, cala. Quindi mi sa che dobbiamo andare di qua, da questo mato. Eh, sarebbe stato troppo facile, giustamente, andare da quel lato. Fermatelo! Non deve arrivare alla bambina! Scusa, ma giubbotto di proiettile se ti sparo in testa... In testa non ce l'ha il giubbotto di proiettile, quindi... Un po' fallace, ah, questa cosa? Fermo! Fermo! No! 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 Stammi lontano! Non toccarmi! Calma, piccola. Mi manda tua madre. Devo portarti via da qui. Mamma? Dov'è? È qui con te! No, ma stai tranquilla. Voglio solo portarti al sicuro. Gabe, ho seguito singolare di fino alla stazione di carico. Per arrivarci dobbiamo aprire le porte blindate. Qual è il piano? Se tu riesci a fermare la centrifuga, io posso piazzare questi esplositi. Quando riaccenderai la macchina, l'esplosione dovrebbe permetterci di passare. Reka, ho bisogno di te per attivare questi comandi. Ok, che devo fare? Quando avrò trovato la combinazione giusta, ti porterò un pannello di controllo. Quando sarai pronta, io e te insieme dovremo accendere questa macchina. Hanno preso una delle mie scarpette. Allora, qua ci prendiamo bel fucile. Allora. Ma prima mi diceva attiva questo. Allora questo. Sì, attivo. Ok. La sto spegnendo. Ricevuto. Vado a piazzare gli esplosivi. Guardami le spalle. Oh no. Fermatela! Liberami di loro! Cioè, ma guarda! ... ... ... ... ... ... ... ... Ah devo farlo Ok ho capito Devo farlo appena arriva praticamente lì Ho capito No Ok Dian vieni qui e porta Blake fuori dall'impianto Ho un conto in sospeso con Singularity Pensavo dovessi avere un secondo di ritardo Invece è istantaneo proprio Non sappiamo cosa vuole fare con il Dark Mirror Portala fuori di qui A Singularity ci penso io Allora di qua non c'è nulla Quindi dobbiamo ritornare Chance Chance l'abbiamo fatto fuori Nel secondo capitolo Ah minchia qua Granata MP Mi sa che qua è esatto Minchia 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 Sì vabbè ma che cazzo Sì vabbè madonna mia I movimenti ragazzi Sono un qualcosa di Sono un qualcosa di incredibile Mamma mia che fastidio Tu e quella donna Hargrove Eravate amici Non è così? Peccato che sia morta Vai all'inferno Sì vabbè ma che cosa Grazie a tutti